All'angolo blu, Alberto Furianiani, noto mangiatore di veste. E all'angolo rosso, abbiamo Matteo Reg Rosso, noto mangiatore di peperoni. E la gara cosa consiste? Chi finisce prima della gara? A Gargaroslo. E Gargaroslo per la gara. O una gara prima di metti in verde e portano a mangiare spugliato. Vieni a che dire Albi. M'altro. Val tutto. Val tutto. Vieni a via via via! Ah tecnicamente! Tacnicamente diversa. La gravata! Beranle! Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! no, ognuno è su su piatta no, ognuno è su su piatta rosso, rosso, porta rosso 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 non è che rotto non è che rotto vai via eee eee bravo bravo antonio grazie 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 grazie